Ciao, io ci credo però provo e non succede nulla e mi perdo d'animo. Poi altri dicono che non si può manifestare una persona specifica, quindi boh. Le persone che non sono riuscite ad ottenere una determinata cosa diranno sempre agli altri che è impossibile, perché la loro realtà è plasmata su quella convinzione. La manifestazione è principalmente basata sulle tue convinzioni più profonde, quindi se tu cominci ad avere dei dubbi, manifesterai inconsapevolmente persone che rafforzeranno quei dubbi. Lo puoi tranquillamente rileggere da questo commento, mi perdo d'animo. Poi altri dicono che non si può manifestare una persona specifica. Ti sei persa d'animo, quindi sei entrata in risonanza con persone che ti dicono che non puoi manifestare una persona specifica. È perfettamente normale, poiché queste persone che ti dicono che non lo puoi manifestare sono il riflesso della tua convinzione. Siamo in un periodo storico dove la vita di per sé è all'insegna della velocità. Un momento in cui una determinata cosa non si manifesta subito o lo viviamo come un fallimento o pensiamo subito questa cosa non è per me. Quindi sta a te decidere, sta a te decidere se nella tua realtà è possibile o no.